Rifornimenti confermati! Attenzione di sotto! Rilevata unità aerea nemica. Armi pronte! 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 Rilevata unità aerea nemica. Rilevata unità aerea nemica. Armi pronte! 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 Rilevata unità aerea... Rilevata unità aereytvata d'idane. Rile'sni- Rilevata unità è stata un po' www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Le forze nemici. Sargento. Dove sono le truppe? Dove sono le truppe? Attenzione. Sargento. Dove sono le truppe? Manca poco. No. No. Possiamo le truppe. Rico, c'è un'altra... Bene, ci vado subito. Tutte le unità della mano nera, state in attesa. Contatto, lo vedo! Ok, passiamo! Altre forze dell'Armata del Caos in arrivo. Sono fatto! Sono così veloce! Apre il cuore! Sì! Cerchiamo di lasciarlo! Abbiamo questo carico, possiamo prenderne un altro Tu invia un'altra unità a recuperare il carico Stanno arrivando 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 E questo Stanno arrivando 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 Comando Stanno arrivando 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 Tutte le Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Quel nido Un colpo Stanno arrivando 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 Un nemico nell'area operativa. Roger, intruso in zona. Tutte le unità all'attacco. Rilevo un elicottero. Occhi aperti. Un nemico nell'area operativa. Un nemico nell'area operativa. Un nemico nell'area operativa. Fermate gli intrusi a tutti i costi. Proteggi quel trasmettitore. Un nemico nell'area operativa. 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 Rilevo l'elicottero! Occhi aperti! Rilevo l'elicottero! 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 S unquote! Tutte le unità in posizione! Sei proprio brutto, sai? Sei proprio brutto, sai? Tutte le unità della Mano Nera, state in attesa! Rico, prima che tu! Cosa? Collegalo al trasmettitore che ho segnato presto! Sto arrivando! La Mano Nera usa driver refrigerati come misura di sicurezza. Diventano inutilizzabili quando si scaldano. Raggiungi quel trasmettitore perché possa recuperare i dati. Questa è l'ultima posizione nota del nemico. In attesa! Nessun altro contatto. Unità, allerta! Questa è l'ultima posizione della Mano Nera. Il drive si è scaldato. Ora è inutile. Te ne servirà un altro. Questa è inutile. Sì. 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 Presto, vai al trasmettitore. In fretta. Sì. È collegato, Easy. Bene. Mi metto al lavoro. A tutte le unità. Accesso non autorizzato al trasmettitore del padiglione di ricerca. Fermate gli intrusi a tutti i costi. Proteggi quel trasmettitore. Nemico nell'area operativa. Contatto nemico. Attaccare a volontà. Amar, atto il truco! Attaccare! Nemico nell'area. Abbacchiamo! Cazzo! Presto! Occhio! Il messaggio è qui! Occhio! Nemico trovato! Rilevo un elicottero! Occhio aperti! Lo spino giusti. Vallevo! L'argo! L'argo di raccoglie! L'argo di raccoglie! Occhio! L'argo di raccoglie! L'argo di raccoglie! E' collegato, Easy. Bene, ti metto al lavoro. A tutte le unità, accesso non autorizzato al trasmettitore del padiglione di ricerca. Fermate gli intrusi a tutti i costi. Proteggi quel trasmettitore. Proteggi quel trasmettitore del padiglione di ricerca. 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 Rilevo l'elicottero. Occhi aperti. Rilevo l'elicottero. Rilevo l'elicottero. È collegato, Easy? Bene, mi metto al lavoro. A tutte le unità, accesso non autorizzato al trasmettitore del padiglione di ricerca. Fermate gli intrusi a tutti i costi. Proteggi quel trasmettitore. Contatto nemico. Attaccare a volontà. Attaccare! Attaccare! Tengo un imparo! Via! Rilevo l'elicottero. Occhi aperti. Via! 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 Grazie a tutti.